Si apre oggi uno stato di agitazione che potrebbe perdurare per diverso tempo e che punta a risolvere problemi ormai atavici sia pratici che di gestione quotidiana di risorse personale. Sono i dipendenti della SIA il consorzio che gestisce la raccolta dei rifiuti in diversi comuni del sud Foggiano, tra cui anche Margherita, Trinitapoli e San Ferdinando. Ed è proprio nella città delle Saline che i sindacati si sono dati appuntamento per manifestare l'inizio dello stato di agitazione che ha già comportato nella giornata odierna e sicuramente nelle prossime giornate diversi disagi. Inizia di fatto lo stato di agitazione anche se i lavoratori lamentano queste cose da oltre due anni. Cioè che cosa lamentano? Loro praticamente, sono i lavoratori della SIA, vanno a lavorare in queste condizioni perché manca un po' di tutto. Manca il vestiario, mancano i guanti, mancano le scarpe, manca tutto quello che è necessario per poter lavorare. Mancano anche dispositivi di sicurezza personali? E' certo che mancano il dispositivo. Oltre a questo c'è una mancanza di attrezzature che sono ormai obsolete, i mezzi non ci sono ed è tutto un modo come un altro per far sì che le cose non devono funzionare. Non so e non sappiamo le motivazioni di questo fatto. Qual è la giustificazione anche sotto altri aspetti? E' quella che alcuni comuni non pagano il canone naturale mensilmente. Mancanza di abbigliamento da lavoro con i dispositivi di sicurezza, lungaggini nei pagamenti degli stipendi, ma anche una paradossale situazione che rischia di creare ulteriori danni economici secondo i sindacati e i lavoratori. Da diversi anni infatti circa 20 operatori ecologici che operano prevalentemente nella città di Margherita sono assunti con un contratto da tre ore giornaliere, salvo poi essere impegnati con moltissime ore di straordinario. Devono mettere nelle condizioni i lavoratori di poter lavorare, al di là del fatto che non riscuotono oltretutto, e quindi un fatto pesante, cioè questi hanno mutui, devono comprare il latte la mattina ai bambini, cioè queste cose le capirebbe anche il cittadino della strada, queste cose sono normali. Stiamo tutti quanti a part time da tre ore, io faccio quasi mille ore l'anno di straordinario, vengo a costare la SIA 7-8 mila euro in più se ci portassero tutti quanti a full time. Cioè io non riesco a capire perché, dove si può arrivare, non lo so chi comanda, chi gestisce. Io voglio fare un appello, non si può andare avanti così senza mezzi, senza guanti, senza robe, con le robe che abbiamo di casa a lavorare, senza guanti, cioè è una situazione drammatica.